Questo è San Basilio, estrema periferia di Roma, un rione nato negli anni 50 e riempito dall'edilizia popolare, noto oggi per essere il supermarket della coca laziale. E qui, qui si vive con poco, da sempre, con niente, dopo il lockdown. E questi giorni ci mancano le soldi. Quindi comprano con un po' di fatica? Poca spesa, poca spesa proprio. C'è gente pure che mi lascia nel conto, mi dicono che vengono fino al mese. Ora sono uscite le cellaggi, le fragole che costano un po' di più, non mangiano più nessuno. Le cose più importanti che vengono. Ma è vero che la sera dovete buttare un po' di frutta? Con questo caldo, certo sì. Ed eccola la frutta che si butta ogni giorno. La frutta, tanta, sì, tanta frutta. E sono messa qui? Sì, qui dentro. Senti, senti proprio che è pieno. Non solo frutta, ma anche pane, pasta, riso, le mense. Tutte cose che magari potrebbero essere utilizzate tranquillamente, potrebbero essere mangiate tranquillamente senza tanti problemi. Si compra con maggiore attenzione? Certo, sì. I soldi non ci stanno più. E quello che si può, si fa. Fatica, fatichissima a comprare. Ma per ogni cosa, innanzitutto per le lunghe attese. Cioè, soldi che non ci sono, lavoro, cosa meglio di me. E quattro persone sopra le spalle, cioè, mia figlia è disoccupata, separata, con tre figlie, e non gli danno niente. È triste, amore. L'importante è portare rispetto. Ma è triste l'economia, i soldi, il lavoro. Io sono tre mesi in lavoro. Cioè, i coli che dè fame.